Il sesso non deve essere un tabù, ma il rispetto ce lo vuole. Il sesso non deve essere un tabù, ma il rispetto ce lo vuole. La donna non è un oggetto che la prendi e poi la lasci, se tu fossi una donna che cosa diresti? Non è una fissazione se si vuole bene, e l'amore durerà di più, e l'amore durerà di più. La donna non è un tabù, ma il rispetto ce lo vuole. Il sesso non deve essere un tabù, ma il rispetto ce lo vuole. Il sesso non deve essere un tabù, ma il rispetto ce lo vuole. La donna non è un oggetto che la prendi e poi la lasci, se tu fossi una donna. La donna non è un tabù, ma il rispetto ce lo vuole. La donna non è un tabù, ma il rispetto ce lo vuole. La donna non è un tabù, ma il rispetto ce lo vuole. La donna non è un tabù, ma il rispetto ce lo vuole. La donna non è un tabù, ma il rispetto ce lo vuole. La donna non è un tabù, ma il rispetto ce lo vuole. La donna non è un tabù, ma il rispetto ce lo vuole.